Buongiorno a tutti. Un nuovo aggiornamento sul tema del coronavirus si rende necessario alla luce dell'incremento dei casi di positività ufficiali rilevate nel nostro comune. Esse passano da 4 a 7, ma va sottolineato che rimangono circoscritti ai nuclei familiari precedentemente coinvolti e dunque non ci sono elementi di rischio o di elevata preoccupazione per una diffusione del contagio all'esterno della rete dei rapporti e dei contatti già precedentemente tracciati e individuati da ATS Sardegna. Le più importanti comunicazioni riguardano l'adesione dell'amministrazione comunale alla campagna vaccinale anti-covid-19 promossa dalla regione Sardegna che come sapete ha visto nel nostro comune circa 450 persone sottoporsi al vaccino tra over 80 e soggetti ad elevata fragilità. Sono circa 260 gli over 80 già vaccinati e 176 coloro che rientrano nelle categorie ad elevata fragilità così come precisate nelle raccomandazioni della regione Sardegna che individua le categorie dei soggetti estremamente vulnerabili e con disabilità gravi. La percentuale complessivamente vaccinata della popolazione berchidese tuttavia è ancora a mio avviso relativamente bassa, non supera il 16-17%. Questo è il motivo per cui l'amministrazione comunale è fortemente convinta che occorra accelerare sul fronte della vaccinazione e completare al più presto la vaccinazione degli over 60 e degli over 70. A tale proposito è importante segnalare diversi avvisi pubblici resi noti attraverso i canali istituzionali dell'ente. Il primo è rivolto agli over 80 che non siano stati ancora vaccinati, pertanto a loro e ai familiari che vengano in possesso di questa comunicazione diciamo che è possibile comunicare questa situazione di non vaccinazione alla mail cittadini-comune.berchida.it in modo tale che possiamo comunicare ad ATS la presenza ancora nel nostro comune di soggetti over 80 che non hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer o Moderna. Allo stesso modo comunico che tutti coloro che rientrano nelle categorie di elevata fragilità o che ritengano di essere soggetti estremamente vulnerabili e con disabilità gravi e che non siano stati sottoposti alla somministrazione della prima dose di vaccino Moderna nella data del 23 aprile scorso presso il nostro punto vaccinale tutte queste persone potranno preliminarmente verificare il proprio stato di salute confrontando la documentazione medica in loro possesso con le raccomandazioni fornite dall'assessorato alla sanità della regione Sardegna che indica con precisione anche i codici delle patologie per i soggetti aventi diritto tra le categorie di elevata fragilità e subito dopo dovranno prendere contatto con il medico di medicina generale che accerterà la gravità dello stato di salute e il diritto del soggetto ad essere vaccinato il quale medico di base poi potrà comunicare alla stessa mail citata precedentemente la presenza di un certo numero di persone che hanno necessità di essere vaccinate a tal punto l'amministrazione comunale potrà prendere contatto con il dipartimento di prevenzione e concordare una nuova data per una seduta vaccinale dedicata sia agli over 80 sia ai soggetti ad elevata fragilità che non siano stati ancora vaccinati. Come dicevo la percentuale complessiva della popolazione è del 16-17% per un totale di 450 persone già vaccinate. Il numero non è alto e quindi confidiamo che questa settimana prossima possa svolgersi la seduta vaccinale per gli over 60-70 che è stata per due volte annullata a causa della indisponibilità di vaccini tipo AstraZeneca. Abbiamo già acquisito agli atti dell'ente circa 350 prenotazioni e contiamo grazie ad un'equip medica folta costituita da medici in servizio in pensione e da un nutrito gruppo di infermieri, os e volontari di poter vaccinare tutte le persone che risultano essere nel nostro elenco in un'unica giornata. Ipotizziamo che questa giornata sia il prossimo 7 maggio ma sottoponiamo a conferma lo svolgimento di questa seduta vaccinale non appena il Dipartimento di Prevenzione ci confermerà l'effettiva presenza e disponibilità dei vaccini nel numero che noi abbiamo richiesto. Voglio concludere questo video messaggio con un pensiero e anche un ringraziamento a tutti i commercianti, gli esercenti del nostro Paese che in questi mesi difficilissimi di pandemia tra zone rosse e zone arancioni sono stati capaci di supportare l'amministrazione in modo costruttivo e hanno dato grande dimostrazione di dignità e di sensibilità nel concorrere a far rispettare le norme di comportamento. Questo aspetto si affianca alle gravi difficoltà economiche e finanziarie che le nostre attività commerciali come quelle di tutto il Paese stanno affrontando. Quindi un sincero pensiero di ringraziamento per un lavoro di squadra che è stato fatto insieme e soprattutto un pensiero di solidarietà e di vicinanza delle istituzioni comunali in questo momento di profonda crisi economica. Questo lo dico alla luce dell'imminente passaggio della regione Sardegna dalla zona rossa che si chiuda nella giornata odierna alla zona arancione che colorerà appunto diversamente la Sardegna a partire da domani lunedì 3 maggio 2021. Che sia l'avvio di una nuova ripartenza nonostante che purtroppo le limitazioni continuino ad esserci seppure meno rigide anche per i prossimi giorni. Grazie a tutti e buona domenica.